Applauso ed eccoci a noi alla fine di questa prima parte ed è il vincitore, il vincitore dei nostri tre candidati sono il grande balletto di Pai con 10 punti! Nel frattempo che il balletto si riprepare perché devono rifare il numero, allora nel frattempo ritrattengo io i nostri spettatori che fra poco dobbiamo giocare insieme e dobbiamo organizzarci ma nel frattempo c'era un negro che si era presentato il primo giorno a Piazza di Spagna, questo negro era a Roma e in Piazza di Spagna, perché adesso soltanto non mi ricordavo la piazza di Spagna, allora e questo qua stava in Piazza di Spagna con l'uccello fuori che girava con l'uccello fuori, allora passa una signora e questa signora gli dice ma cosa fai? Ma poco! Ma so maniere queste qua, ma anche qui siamo in Italia eh! Non so mica maniere questo uccello! E nel frattempo vive il calabiniere! Ma butto negro cosa ti credi nella giungla? Ma qui non ti fanno quelle cose là? Ma come non ti vergogni? Ma dimmi un po' perché? Ma cosa stai facendo? Mi puoi dire ma? Ma? Il negro risponde ma? A me è rupare il portafoglio? E io chiedo al mio amico come trovare il portafoglio? E lui risponde eh! Cun cazzo trovare il portafoglio? Vai a cercare il portafoglio! Chi sei italiano? 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 Chi è italiano? Bene! Il paletto di Pasqua è pronto? Non è pronto ancora! È pronto! È pronto! Musica, sigla di nuovo! È pronto il paletto? È pronto il paletto? non so, anche voi avete l'abitudine di dire ai vostri bambini attento, chiuditi i pantaloni perché esce fuori l'uccellino allora c'era una coppia che sempre andava il bambino diceva no, attento Alessandro, chiuditi i pantaloni che esce l'uccellino mi parla più viva ad andare con l'uccellino allora a un certo punto dove vanno fare la foto e dice Alessandro guarda l'uccellino ed ecco a voi il grande palletto di pane grazie 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 No, è in questione di destra o di sinistra. Vincere alla prima destra e adesso... Vincere alla prima destra e adesso... Vincere alla prima destra! Vincere alla prima destra! Signore Ubaldo, signore Ubaldo, questa è la gente di Montinero! Ma che questa è la gente di Montinero? Vincere alla prima destra! Tutto bene, forcheri mille! Chiudiamo, chiudiamo il primo, la prima parte, ci rivediamo fra dieci minuti! Tele giornale! Ciao, pubblicità! Ciao, pubblicità!